Niente, il film nasce da questo momento grammatico del Covid, ero nella mia cameretta e mi son sentito con Federica, che è la nostra regista, che secondo me ha fatto un lavoro veramente incredibile, e gli ho detto ma perché non proviamo a fare qualcosa invece di stare fermi? Perché se stiamo fermi sicuramente non sarebbe capitato nulla. E lei mi ha detto cosa pensavi di fare? E quindi abbiamo iniziato a creare qualcosa. Quindi io adesso ti vorrei lasciare subito la palla, così nella voce, rapido. Poi tanto la palla la lascia tutti, no? Di prima, giochiamo di prima. Perché veramente io sono attualmente molto emozionato perché in sala siamo ritornati da poco, tornare con un mio film per me è qualcosa di emozionante, tant'è che ho poca salivazione in questo momento. Però Fede, la mia regista, sono contentissimo. Ok, tanto grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Spero vi sia piaciuto il film, noi abbiamo fatto questo lavoro con grandissima sincerità, con un'autenticità come è poi anche la buona delle caratteristiche anche delle popolazioni che poi sono state rappresentate in questo caso incredibile. A cui io sarò per sempre grata perché hanno fatto secondo me un lavoro meraviglioso, ovviamente commovente sotto tutti i punti di vista, nella forma ma anche che è un'autenticità come è un'autenticità come è un'autenticità come è un'autenticità. Sono veramente onoratissima, onoratissima. Avete visto insomma quattro episodi molto diversi, molto staccati. Non si tratta di un territorio, di un volvo soltanto, le manche sono fatte di morbi, sono fatte di territori estesi, quindi di una prospettiva lunga diciamo. L'unico a disegnare il territorio è appunto l'acopo, che è il matrimonio di Latina, è un po' sui generis. E abbiamo capito che le persone che hanno fatto e che riescono a fare delle scelte di vita, come appunto Albert Dante con l'arte, Lucia con la fattoria, quindi un rapporto con la natura, Don Gani con la religione, con la fede, quindi con un rapporto con la comunità e la scelta di vita di diventare su famiglia. Si ritrova completamente da rivedere questa scelta con qualcosa che è tutta la scelta. La scelta è un evento improvviso che deve rimettere a costo una nuova grammatica della propria vita. Non si tratta più di fare delle scelte, si tratta di fare delle scelte forse nuove su un terreno nuovo, su una prospettiva nuova, un po' come ci stiamo anche trovando da anni. Quindi diciamo che il terremoto è una rappresentazione di quello che poi può capitare all'improvviso senza che noi lo prevediamo. Dobbiamo essere chiaramente pronti a tutto, non lo siamo. Abbiamo rappresentato lo smarrimento che può cogliere un evento di questo tipo. un istinto di sopravvivenza direi anche che poi si trasforma anche in istinto di umanità, per fortuna, quindi la capacità anche di dare quel minimo di sostegno per non far sentire completamente soli. Mi viene colpito da un evento di, diciamo, il fatto di improvviso, imprevedibile. Comunque l'avete visto? Grazie ancora. Grazie a tutti per essere qui. Il nostro, diciamo, l'idea della ballata dei gusci infranti, questo guscio che si rompe con il terremoto, ma questo guscio che si può rompere con la libertà che non abbiamo più avuto per il Covid, quindi è bastato un niente che ci ha infranto questa libertà di poter abbracciare i nostri cari, oppure questo senso di smarrimento che ci sta creando questa guerra. E io sono molto contento perché ho fatto di tutto per avere Lina Sastri e per avere Giorgio Golangeli, che sono stato contentissimo perché erano impegnati entrambi, ma dopo aver letto la sceneggiatura mi hanno detto Simone io vengo. Devo dire che ho avuto una leggera anzietta. Però sono veramente molto contento, quindi passo la parola a Lina, poi a Giorgio, poi va davanti. Ecco, mi dando un altro microfono. Buongiorno a tutti. Quando sono venuta a fare questo film con i nostri amici qui, io ho accettato perché, innanzitutto per curiosità, per curiosità nei confronti di giovani produttori, attori, registi che si impegnavano in un'opera prima e in qualcosa che era rischioso. E quindi pensavo che fosse molto interessante partecipare a un'opera rischiosa e di impegno di persone che non pensano poi a che cosa succederà, ma si impegnano in un momento così difficile come era quello nel quale abbiamo girato, in una cosa nuova, in una cosa, quindi per curiosità, nei confronti loro. Questo è stato, diciamo, il mio primo approccio, che non era un approccio in qualche modo artistico, ma proprio umano, nei confronti di una situazione. Naturalmente poi per gli attori ho incontrato, naturalmente poi per la giovane regista con la quale ho avuto il piacere di recitare e lui, quando c'ero io a recitare, per fortuna non recitavo, quindi non lo so, non lo so, era producer. Ma ho incontrato, e lui era mio figlio. Abbiamo litigato subito, lui e lui. Come ci siamo incontrati? Abbiamo litigato, ma ferocemente, non poco, ma proprio ci siamo presi quasi a vaffa, non si può dire, ma abbiamo litigato ferocemente i primi cinque minuti. Sì, subito. Ora, a parte queste cose che ho detto, è vero quello che ha detto lui prima della rottura di questo guscio, anche se trovo che è un titolo impegnativo quello che avete scelto, impegnativo però, da l'idea di quello che è stato il film. Ecco, questo film esce adesso e noi ci ritroviamo dopo il Covid con qualcosa di molto vicino, che è la guerra, no? Che in qualche modo ci sta imbaurendo, toccando molto da vicino. e abbiamo visto come le persone, o con un telemoto personale o sociale, o con una guerra, perdono i punti di riferimento. E queste sono cose che o allontanano o avvicinano le persone. Io, personalmente, quando sono venuta a fare questo film, ero reduce da un grave lutto, perché avevo perso proprio da pochissimo mio fratello per il Covid, che era ed è, il mio cuore, la persona più importante della mia vita. Quindi ero reduce da questa mancanza che mi aveva sicuramente seminato molto disequilibrio. Io già sono in piedi e disequilibrata normalmente, quindi venendo da questo lutto ero disequilibrata. Quindi ho cercato come un appiglio in quelle macerie. Ho visto che, per quello che riguardava il mio personaggio, l'appiglio non lo trova. Non lo trova. Cerca in quelle macerie la memoria di quello che era. Forse l'unica cosa che il terremoto porta, parlo del mio personaggio, di una storia che rappresento io, di nuovo nella sua vita di importante, è un rapporto ritrovato, in qualche modo, con il figlio, con il quale era talmente esclusivo il suo rapporto d'amore col marito che era escluso questo figlio. E in parte è ritrovato in questo nulla che li circonda, in questa provvisorietà che li circonda. Questo figlio che è sempre stato provvisorio e che guardava da fuori, come da fuori da una finestra, la vita e l'amore di questi due genitori. Ecco, lei lo ritrova. Non è una consolazione. Penso che una nota importante di questo film sia che non è consolatorio. Avrei finito. Difficile dire qualcosa di interessante dopo un terremoto così direi esaustivo proprio nei confronti non solo del film ma anche proprio di quello che siamo, di quello che stiamo vivendo, di quello che si può vivere in genere, appunto nelle vite di qualcuno di noi. Io conoscevo già, parlando invece di cose più anche banali, io conoscevo già Simone, avevo fatto il suo primo film da produttore, Come saltano i pesci, e quindi quando è arrivata la proposta di questo corto, perché poi quello che dovevamo fare Lina ed io, e anche Samuele, era un corto che poi avrebbe con altri tre corti dato luogo al film. La cosa che mi ha attirato, oltre a sapere che mia moglie era Lina Sastri, che era una grande occasione di avvicinare un'attrice che ho sempre stimato e che ho sempre guardato con un'ammirazione, era anche il fatto che tutte e due fossero appassionati di Dante. Io in quel periodo mi accingevo a fare l'edizione integrale della Divina Commedia all'Argentina, al Teatro Argentina, tutto il poema a memoria. Io ho girato un sabato, una domenica, il lunedì successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, avrei fatto tutta la Divina Commedia a memoria. Me lo sono dato come un momento di respiro, perché tanto se fossi rimasto a casa mi sarei macerato nell'attesa dell'evento, invece mi sono ricreato, mi sono alimentato, perché l'ambiente del set era molto disteso, molto fertile, molto piacevole. I posti erano bellissimi, si mangiava bene nelle Marche, è inutile dirlo, si mangia bene dappertutto e in ogni occasione, anche il panino, quando si fa l'orario continuato e non c'è il cestino ma c'è il panino, il panino è sempre ottimo e non è una cosa secondaria nel creare l'ambiente di lavoro. Il mio personaggio si chiamava Dante, è un personaggio che esce dalla storia proprio con il terremoto, rimane sepolto dalle macerie e quindi non vive la tragedia, è un fortunato in qualche modo, lascia tutto incompiuto, come spesso la morte è questo, non è che arriva quando dici tu, arriva quando dice lei e quindi lasci tutto per aria. Anche il rapporto col figlio, che si indovina non essere un granché, come quello del resto anche che il figlio aveva con la madre, talmente esclusivo il rapporto tra queste due persone, tra me e lei, che il figlio rimane un po' fuori. Ma il figlio è proprio come me nella vita, sapeva la Divina Commedia a memoria, la citava continuamente, quasi a dire che chissà la Divina Commedia a memoria è un po' matto, il che non mi dispiaceva. Il fatto che si parlasse di terremoto e di Dante era un mettere insieme due modi diversi di guardare a un passato, recente quello del terremoto, più remoto quello di Dante, ma da tutte e due trarre l'insegnamento di solidarietà, di coesione. A me è rimasta sempre per tanto tempo, tutt'oggi, impressa una scena del film 2001 di Stia nello spazio, quando gli uomini, che sono ancora delle scimmie, sono dentro una caverna e fuori c'è il… ci sono appunto i terremoti, il magma che esce, i dinosauri… insomma c'è tutto un mondo ostile. E questi scignoni che stanno nella caverna con gli scimmiettini in braccio, è una scena che dice che la condizione umana è una condizione di fragilità. Ed è assurdo che ci si combatta quando ci si dovrebbe aiutare a vivere e a sopravvivere, che non è una cosa semplice. Allora, vado in fila. Paola. Grazie intanto di essere qui. Alleggerisco io un po' l'atmosfera dicendo che mi sono divertita un sacco, ero da sola, quindi non ho litigato con nessuno, se non con Silvano, l'asino, che però ogni tanto ragliava e mi rispondeva. E peraltro ringrazio, c'era anche Samuele ovviamente nel mio episodio, ringrazio questa esperienza. Sono un asino però, dite. No, c'era anche lì a parte. Perché per me è stato un po' tornare a casa, io sono mamma del sud, campana, ma papà emiliana, abbiamo vissuto anche noi il terremoto, ma soprattutto sono nata in campagna, per cui io mi sono buttata come una matta sui trattori, sulle mucche, su tutto quello che c'era. Dio, fatemelo fa. Lui mi diceva, pure sull'asino, si dice, posso andare? No, non puoi, la produzione, so io. Io mi sono divertita come una matta, anche se piango, avete visto, ovviamente è un tema che ci riguarda tutti. L'Italia è un terreno sismico e noi siamo sismici, quindi anche noi esseri umani, quindi faraniamo ogni tanto. Però è una donna che comunque si risolleva, quindi in questa natura, come mi piace, ritrova la sua, la sua verità, la sua essenza attraverso gli alberi, attraverso gli animali. Quindi per me è stato un tornare a casa. Poi rispetto, devo dire, per fare invidia a tutti i colleghi, io ho mangiato da Dio perché stavo a lavorare in una fattoria pazzesca, mi davano cose loro direttamente, i formaggi, da mangiare direttamente così, con questo dialetto, perché io stavo a fare questo dialetto che mi sono messo a capare da tutti, sa? Per cui mi hanno addirittura scritturata come contadina e viene con me l'anno prossimo a lavorare in fattoria. Ho alleggerito il tema dicendo quindi grazie a questa piccola grande produzione perché è veramente, secondo me, un film bellissimo. Buongiorno a tutti. Sono molto contento e orgoglioso di far parte di questo progetto con questa bella gente, con questi grandi nomi. Un ringraziamento speciale va a Federica Biondi e a Simone di aver creduto in me. Il mio personaggio, il sacerdote, io sinceramente non l'aspettavo. Per chi mi conosce sa che ruoli faccio, terrorista, che babbara, non ce l'ho con loro. Quindi, veramente, questo personaggio è arrivato nel momento in cui io facevo delle domande ma io farò questi ruoli a vita e arrivano, non lo so, un miracolo. Non ti preoccupare, stanno arrivando 8 anni per te. Quindi, è stata una bellissima esperienza. Due mesi, penso, prima delle riprese, andavo in chiesa e ogni domenica alle 10 stavo lì davanti al sacerdote a vedere come si muove, come fa, come parla. Quindi, per la ricerca del personaggio. Quindi, è stato veramente bello partecipare a questo progetto. Ringrazio anche Alessia Fanzon, la mia gente, che mi sostiene sempre dell'Agenzia Stefano Chiappi, che mi sopportano. E, veramente, se il film, il messaggio vi è arrivato, vi ha toccato il cuore, vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Quindi, mi raccomando. Grazie a voi. Grazie a voi. Vi dirò due ultime cose, però voglio chiudere con il nostro protagonista, che è Samuele Sbrighi. Grazie. Che è un grandissimo amico, prima di essere un bravissimo attore. e sono veramente fiero che tu abbia accettato di fare questa sfida. E sono contento che Federica mi abbia accettato. Sei stato l'unico in posto. Non sto scherzando. Sono l'unico raccomandato, praticamente. Sono veramente contento perché Samuele ha fatto, come anche un altro film, Tiro Libero, dove faceva un personaggio veramente molto borderline e sapevo quanto fosse bravo. Quindi, è il nostro protagonista. Grazie. Grazie, Simu. Allora, bene. Io posso darvi intanto quello che è il punto di vista mio su questo film. Io credo che il terremoto sia una meravigliosa metafora per parlare di sentimenti, in generale. di sentimenti universali, in queste storie, che poi fondamentalmente riguardano un po' tutti noi. Tant'è vero che quando Simone mi ha proposto questo film e poi mi sono incontrato con Federica, proprio perché venivo da una precedente esperienza dove avevo interpretato un ragazzo psicotico, inizialmente un po' mi preoccupava perché c'era l'eventualità, la possibilità di poter ricadere nella tentazione di fare quello che era già stato fatto in precedenza. Invece, fortunatamente, devo dire la verità, sia Simone che Federica avevano delle idee molto chiare su ciò che volevano e ci siamo trovati subito d'accordo. Infatti, insomma, prima tu, Giorgio, hai citato un film, io cito Revolutionary Road con dovuto rispetto naturalmente per i paragoni, però in quel film che io adoro c'era questo volo del matto, questo attore straordinario che per me rappresentava un po' in generale la verità, il contatto con la realtà assoluta. Per me Jacopo è stato un po' tutto questo, e quando si parla di gusci infranti, io penso che ognuno di noi possa avere un guscio infranto da qualcosa, un po' come un vetro nella macchina, c'è sempre qualcosa che crea una crepa in tutti noi, nelle nostre vite, può essere un amore, un episodio. E proprio quel processo che avviene quando cerchiamo di ricomporre il nostro guscio, ci fa capire quanto sia importante poi il guscio di ognuno di noi, quanto a volte diamo per scontato alcune cose e soprattutto in questo periodo ce ne stiamo accorgendo, dove insomma siamo tutti i giorni naturalmente in base da notizie purtroppo poco belle, e quanto invece, dicevo proprio che diamo per scontato, che le piccole cose nella vita continuano poco. Invece questo film a me personalmente mi ha riportato proprio a pensare e a confermare che le piccole cose sono proprio il grande valore nella nostra vita. Il nostro guscio è quello che dobbiamo amare, dobbiamo preservare, e allora tutto prenderà un senso. Va bene, spero di avere dato il mio punto di vista in modo esauriente. Sicuramente. Grazie. Per un ultimo ringraziamento, voglio ringraziare tutta la squadra Linfa, da Anna Laura fino a Flori, Marianna, Emilio, Susi, che stai dicendo, e sono sempre stati con me, voglio ringraziare i miei co-produttori della Muvlab, Niccolò e Mirko che sono lì, e Eva che ci hanno sostenuto nel film. Faccio una piccola cosa, so che non si fa, ma io voglio ringraziare anche Zurich e la Regione Marche, perché senza di loro e senza loro attenzione al territorio probabilmente questo film si sarebbe potuto fare. Quindi ringrazio Zurich e ringrazio la Regione Marche. Posso dire una cosa con me? No, sì, e poi voglio ringraziare la mia agenzia Alex Pacifico e Cristiano perché mi sopportano e mi supportano, sono lì. E infine Landon e Caterina Sciulla che ahimè non ci sono per la febbre e per un problema sopraggiunto, quindi comunque li ringrazio pubblicamente perché la canzone è speciale, uscirà domani se non sbaglio adesso, non vorrei dire domani. Sì, sì, domani. Perfetto, bellissimo, sanno tutti. E niente, quindi grazie mille Sama. No, volevo dire solo una piccola cosa perché poi mi sono perso in questo discorso che ci teniamo a fare prima, molto simpaticamente Lina ha parlato del nostro incontro. E io, no, no, a parte gli scherzi, io sono molto grato invece, cioè questa è la grandezza di lavorare con attori veramente così grandi come Lina, Giorgio e tutti gli altri, proprio quella, una volta che c'è stato questo scontro tra me e Lina, in un certo senso l'abbiamo utilizzato, non abbiamo disperso quello che era successo, è stato come se tra di noi ci fosse una sorta di esigenza, ma parlo per me, scusami, ma parlo per me, una sorta di esigenza, quando, no, adesso dopo le diriamo ancora perché sta dicendo delle cose che non condivide, no, però dico, quando è successo questo, poi dopo ho fatto tesoro dell'esperienza e non l'ho buttata, ho cercato di metterla nel lavoro e sono, ci tengo a dirlo, veramente grato di aver lavorato con attori straordinari come sono Lina, Giorgio, adesso cito loro perché gli altri sono giovani attori e non a caso mi sono messo tra mamma e papà, come vedete, così me ne sento a casa. Guarda, mi hai anticipato, l'ultimo ringraziamento sicuramente a tutto il cast speciale che ha fatto parte di questo film, ma quello più importante a Federica, che secondo me senza dire non ci sarebbe stato nulla e quindi io per sempre sarò grato di questo film. Comunque vada, sono contento di uscire oggi, nel senso sono contento di essere in sala e sono contento di aver scelto da produttore e distributore di questo film di uscire al cinema, perché ragazzi, il cinema è qualcosa di magico e quindi bisogna uscire al cinema. Dal 31 marzo saremo al cinema, usciamo con una cinquantina di copie, quindi sono veramente contento per un film indipendente uscire in 50 copie. Gianlu, io mi lascio. Se ci sono domande dei colleghi, noi in questo giro l'abbiamo terminato. Riccardo? Chi vuole fare delle domande? Faccio io? Sì, ciao. Ronella Mataranga di Trebun. Allora, prima cosa volevo fare una domanda alla regista, perché volevo sapere in che modo sia rapportata a degli attori e soprattutto divisi, cioè nel senso che erano tre corti, quindi per un'opera prima non è così semplice da affrontare, quindi come è stato, tra l'altro con attori ben diversi e anche di peso, diciamo così. Quindi per una prima opera non è così semplice, quindi tutte le sue cose. e poi anche agli attori vorrei sapere la scelta anche di lavorare con un'opera prima, con una giovane regista. Spesso anche questo non è così semplice, anche dalla parte degli attori, quindi vorrei capire anche per tutti voi come è stato comunque essere diretti da una giovane regista e in un territorio così anche emozionante, cioè credo che anche girare da quelle parti, credo che ci sia ancora tanto, sì, è ancora visibile tantissimo. È rimasta uguale? Quella che avete visto è Arquata del Tronto, è così, ma anche i territori, certo, è Amatrice, cioè quali sono i territori esattamente? Allora, l'ultima che avete visto è Arquata del Tronto, che è Martigiana, perché Amatrice invece è Lazio, noi siamo rimasti comunque nell'ambito martigiano. E' molto vicino a Arquata del Tronto, Amatrice. Poi c'è San Ginesio, che è provincia di Macerata, quindi molto più su. Ha colpito un gran territorio vasco, insomma. Poi Amandola, Macerata, Chioraco, Elcido, Campaito, che è la prima scena che avete visto, e Piastra con il lago, io c'è il lago di Piastra. Piastra lo stesso modo che mi è incodata, però non c'è niente, non c'è niente, è tutto vuoto praticamente. Rispondo alla domanda. Dunque, io non ho... Ho sentito più l'onore di lavorare con un cast del genere piuttosto che paura, perché la paura non porta a lavorare bene, quantomeno a me. Avevo già girato un corto con Fabrizio Berragane, Barbara Lunti, Fabrizia Sacchi, per cui già lì forse potevo sentire più l'impatto comunque della mia prima volta con un cast eccezionale. Qui sapevo ovviamente di avere di fronte i maestri, e per me è stato... Cioè, mi sono voluta proprio l'esperienza. È stato... È una cosa... Questo lavoro, il lavoro della regia, a me piace tantissimo, proprio per questo. Quindi, non lo vedo come la brucia di banana in cui posso andare. Per cui io mi sono voluta veramente... Anche per me l'anno scorso è stato molto complicato a livello personale. Ho perso il mio centro, per cui diciamo che il lavoro mi ha... Ha cercato di rimettermelo in un certo senso. Quindi, niente, è stato... È stato bene. Diciamo che a livello produttivo invece fare quattro corti staccati per una questione di luce è stata una cosa per me... Devo farlo mai più? Perché sono quattro... Sì, sono quattro, quattro film. E... No, non c'è qualcosa. È la scelta, diciamo... Allora, sono quattro realtà completamente differenti. Ehm... Anche... L'abbiamo girato nell'arco di tutto l'anno, quindi vedete anche dei colori differenti, vedete stagioni differenti, per cui abbiamo cercato di coprire un campione dove, a livello paesaggistico, le marche sono... Insomma, favoriscono lo sguardo, nel senso che inverno vanno viste, vanno un certo tipo di colore, primavera, estate... Allora... Da marzo all'ottobre. Un po' Sì, e abbiamo fatto quattro sette, nel senso, quattro periodi di sette differenti, abbiamo fatto la difficoltà, diciamo, è stata anche quella di tenere la coerenza del personaggio, per esempio così lungo, in episodi differenti, dove lui comunque si relazionava con, diciamo, con un feedback diverso per lui. Quindi, diciamo che ci piace la sfida del certo sfida. Abbiamo creato qualche cosa, appunto, che fosse, come dicevo, la ballata di Ducicanti, il titolo recito, cioè un componimento poetico a strofe, con un ritornello, no? Questo è il senso... Cioè, le strofe, gli episodi, con una cosa comune a tutti, insomma, un'opera del mio progetto. Anche sulla fotografia avete visto la differenza, no? Quindi, inverno, location differenti, quindi uno tutto interno. sono reali, sono reali, sì, 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 è stata la difficoltà più grande, perché è come se avessimo prodotto quattro film di tre. Sì, esatto, e poi non si aspetta, no? Una film con una carica univota. In realtà ci sono quattro episodi, non li abbiamo separati, perché abbiamo detto, il territorio è questo, la frammentazione, cioè, secondo me è un valore aggiunto a quello che è proprio la dispersione delle persone in quel caso, cioè si sono sentite proprio a pezzi. Diciamo che, ecco, sono tutti i concetti veramente molto, anche qui sotto, ricercati in un certo modo. Quindi, anche lasciare il finalissimo, alla bambina che poi è all'interno delle nuove città, insomma, che ci sono adesso, che è quello che poi illumina il futuro. Sì, grazie, esatto, sì, perché per noi è comunitarlo, può essere, assolutamente, vedarlo, in più o meno, un po' da mani, se uno può immaginare che è stato di rapo in più. esatto, 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 esatto. Sì, sì. Io ne mandai la settimana ora a nuovo. e voglio fare una domanda a Simone, Riccioni. Allora, Simone, io, anch'io sono, ho dei ricordi meravigliosi di quella zona più diamatrice perché ci ho trascorso la mia infanzia, quindi devo dire che ti ho fatto un po', un po', emozionare, no, questo film in generale, non solo per le scene che abbiamo visto, ma credo, il messaggio che tu credo voglia dare anche al pubblico è che è vero che abbiamo avuto il Covid, adesso purtroppo ci abbiamo la guerra, però il terremoto, cioè la situazione di quei posti è ancora così, per cui non se ne parla più, ma insomma se si va lì, come diceva la regista giustamente, è rimasto tale, quale? Sì, purtroppo. allora l'idea era anche quella di dopo cinque anni perché noi dovevamo uscire a ottobre e poi c'è stato tutto quello che c'è stato quindi ho deciso di uscire a marzo e assolutamente volevo riaccendere un attimo un faro ma non da un punto di vista di polenta, ci mancherebbe, ma da un punto di vista bello, cioè far vedere come della gente comune con il proprio cuore, con la propria amicizia, con la propria fede, con il proprio incontro si è riuscita a rimboccarsi le maniche e a far rifiorire un messaggio di speranza in una landa per quanto mi riguarda desolata perché io vivevo in quei posti lì nel senso che quando andavo dai miei nonni Castelra e Mondo Camerino e via dicendo e oggettivamente casa di mia nonni non c'è più nel senso che non c'è veramente più è una cosa che è strana da spiegare sono stato a Milano perché dovevo presentare delle altre cose e c'è stato il terremoto due mesi e mezzo fa io pensavo fosse la metropolitana perché è successo che tutti hanno detto io scossa, scossa, scossa e io sono rimasto un po' così perché da noi l'ha fatto 7.2 vi posso garantire che non riuscire a uscire da una stanza perché si sposta alla porta è una sensazione che non si spiega quindi riuscire quindi riuscire in maniera poetica come ha fatto Federica con molta delicatezza a toccare una tematica del genere perché è stato voluto non far vedere niente fino alla fine l'ha voluto non far vedere nulla fino a quando alla fine si vede qualcosa e sono contento che lei abbia toccato questa cosa perché a noi marchigiani tocca tanto ma come dicevo non è un film marchigiano noi l'abbiamo girato lì ma vicino abbiamo l'aquila a 25 minuti sì amatrice come il nostro povero viso con la nostra moscia come il nostro sono tutti paesi rasati al suolo quindi questo e poi volevo avevo un'altra curiosità come mai questo riferimento a Dante qui deve rispondere la regista abbiamo litigato no 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 sì sì ma le cose belle vengono fuori da delle discussioni no litigate per dimmelo di dire cioè abbiamo discusso fronti ecco insomma diciamo un set bellissimo bellissimo poi ho litigato tutti io no con l'aseno solo con l'aseno Dante è un riferimento culturale che fa parte di noi e quindi tu mi serviva a Jacopo per dire guarda dove ti trovi no in un posto in cui la poesia ispira e suggerisce speranze anche Dante è stato poi avessuto l'esodo quindi diciamo che per tanti motivi insomma era anche di qualche cosa che identificasse un po' è un'identità la confusione che c'è tra noi e la casa il posto in cui abitiamo no ci mettiamo tutto dentro ci manca la casa non abbiamo più un riferimento a noi stessi quindi ecco il suggerimento che la speranza che vuole passare in fondo è che quello che abbiamo vissuto nei luoghi che abbiamo vissuto con le persone con cui abbiamo condiviso il tempo ci hanno creato una casa dentro ci hanno creato un'identità forte quella non si distrugge ed è l'unica cosa che ci può salvare cioè tutti abbiamo perso qualcosa o qualcuno e c'è solo un modo per ritrovarlo e tornare a casa in questo senso calve ciao sono Federica e anche io ti rimasti già non c'è tutto quando mi viene tramando la città nuova continuare e io voglio sapere le notizie riguardo la colonna sonora utilizzata perché siamo amballata quindi immagino che ci sia un tema importante dato che è stato utilizzato da parte per il titolo allora sulla ballata io non ho non ho fatto invece questo discorso non ho legato la colonna sonora al titolo della ballata abbiamo lavorato con Zenith che è il compositore poi di Ando della Frente Drani insomma avete sentito in fondo abbiamo cercato di dare qualcosa di fresco quindi di avvicinare anche di utilizzare una musica che fosse anche un'attrattiva per chi forse per le generazioni un po' più giovani di guardare insomma quello che hanno intorno quindi di avvicinare a un sguardo il loro mondo invece magari si cerca sempre di rendere più leggero più tranquillo più comportevole la comfort zone serve fino a un certo punto serve però serve anche dire che c'è dell'altro quindi è un utilizzo di questo tipo insomma la nostra secondo me grazie il random si è reso disponibile perché il film l'aveva visto e l'ha toccato tantissimo quindi ha scritto questo pezzo ad hoc che è bellissimo secondo me poi sì io ho parlato il titolo della pallata Marco è come la storia è parete di voi non ho la prima con la festa di percheca perché quello è unicipale no? infatti non è cioè non abbiamo pensato al titolo con la colonna sonora proprio è più su una struttura del film cioè come lo abbiamo montato pensato montato quindi è un componento a scuote quindi completamente l'armissima chiara giuria cortese per la piattaforma di usquare di verona capire esaustiva avrei voluto chiedere anche io appunto la scelta di random come è nata ma avete risposto come è nata questa collaborazione perché noi la conosciamo è giovane ma assolutamente talentuoso e seguitissimo sui social invece tra il serio e il faceto volevo chiedere a Samuele visto che ci ha instillato ormai questa curiosità il cazziatone di Lina Sastri perché vogliamo sapere vuoi sapere la versione ufficiale o non so quella è proprio il contrario il cazziatone l'ho avuto io da lui ce lo raccontate perché siamo giornalisti eravamo sconosciuti è così non ci conoscerà è così è così sono arrivata mi hanno portato alla mia stanza del bed è così è così non direi mai il contrario no no è così è così sì sì poi a un certo punto vi lascio la parola stavo parlando con la signora della stanza perché faceva tanto freddo e chiedevo il riscaldamento è così è arrivato questo che io non lo conoscevo che senza neanche un attimo senza neanche pensare che stavo parlando con questa signora ha detto alla signora qualcosa ha chiesto delle cose ma e ha detto scusa ma sto parlando con la signora e gli ho detto non ti ho visto non proprio così però voglio dire no peggio vi siete presi a paccheri come si diceva no 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 assolutamente no stiamo scherzando no no gli ho detto non ti ho visto io ho detto ma come non mi hai visto che sono invisibile e insomma su questo punto ci siamo un attimo alterati ma poi dopo ci hanno presentato e io ho capito che lui era mio figlio e io ero sua madre e da lì è nato poi il rapporto diciamo verissimo tra i altri e la madre è così o no è così è così io però mi piacerebbe sentirlo raccontare da te diciamo perché vuoi sapere la versione mia come la dice la verità la verità non la verità la versione sua io sono molto trasparente tipo come l'ho vissuto eppure io sì se no infatti io sono arrivato in hotel e probabilmente dopo il viaggio in macchina non mi sono accorto insomma che Elina stava parlando eccetera stavo a questa distanza ma probabilmente perché sono un po' rincogionito io e quindi ho fatto le cose che dovevo fare e Elina ha detto non è possibile che tu non ti accorgi di me purtroppo è possibile non è ma da dimmi un attimo non dimmi l'ina sasta no no certo dimmi nessuna che stai parlando della madre e io purtroppo non mi ero veramente accorto che se no io mi ritengo come una persona educata l'avrei salutata e sarebbe stato anche un piacere e perché non te l'avevo visto a questa distanza allora questo racconta secondo me che lui non guarda oltre se stesso volevi dire questo se stesso proprio guscio e forse e forse anche io e forse è per quello che poi il guscio si ha infranto e forse anche io la scrivo io ma grazie a Dio esiste la tecnica del Kintsugi che tutti conoscerete che è? cose che si rompono l'Oriente si ricuciono con l'oro e sono diventati più forti sono diventati più forti di prima no ma infatti dopo davvero devo dire grazie a tutti alla regista meravigliosa a tutti agli attori veramente è stato poi ecco devo dire sono stati dei giorni che io ricordo più nella mia vita nella mia memoria più come giorni di vita che giorni di set non so come dire è importante quando qualche cosa che tu hai vissuto tu non te lo ricordi come un'esperienza di lavoro perché chiaramente è stata un'esperienza di lavoro evidente ma te lo ricordi come giorni di vita nel bene e nel male no? per quello che hai mangiato per come ti sei svegliata perché faceva freddo perché ti sei incazzato perché hai fatto pace perché hai visto la macerie perché c'era un teatrino molto bello perché ho camminato per un borgo sotto braccio a qualcuno che doveva essere qualcuno che mi voleva bene perché c'era la regista che ci guardava con attenzione timidezza pudore e presenza molto intelligente e lucida perché c'era lui che era sempre molto agitato perché c'era una natura meravigliosa intorno perché aveva un figlio che mi guardava con sospetto e amore ecco questo è un episodio della mia vita che mi ricordo come vita e non come come set io se posso aggiungere vorrei veramente ringraziare visto che hai citato Federica la regista insomma almeno ho l'occasione di farlo perché non è così scontato lavorare coraggistico con una sensibilità alla prima esperienza come Federica con le idee così chiare è veramente stata una guida importante per me è stato un punto di confronto costante è molto importante sulla costruzione di questo personaggio che non era non era facile sono personaggi delicati e quindi vanno trattati un po' con le pinze e poi insomma ringrazio Simone perché se sono qui lo devo a lui perché mi ha dato fiducia al di là dell'amicizia perché è quello penso che poi noi ci siamo conosciuti sul set dell'altro dell'altro film poi da lì è nata una grande insomma una grande amicizia una grande stima umana e professionale quindi non è scontato insomma quello che ha fatto nell'affidarmi questo ruolo che è un ruolo a cui tengo veramente tanto quindi lo dico oggi e pubblicamente te ringrazio grazie e grazie a questi compagni di viaggio che sono stati una grande crescita umana e professionale per me grazie a tutti ci sono altre domande? si impegniamo il cast ah c'è ancora ok sono buongiorno sapienza di prova a colori al produttore rispetto al presente esperienza difficoltà maggiori e maggiori fiducia da parte degli investitori perché un giovane produttore è in visuale in Italia quindi mi chiedevo l'impatto e gli attori come si sono provati a lavorare con un giovane produttore? allora dei film fatti penso che sia quello più difficile perché avevamo molte più location e solitamente quando uno fa un film indipendente o un film piccolo cerca di fare tutto in una unica situazione no? e invece ci siamo trovati con infinite location infiniti luoghi infiniti città e quindi è stato molto più difficile poi questo partire fermarsi poi ripartire per avere dei momenti differenti era come ripartire sempre da capo nel ripreparare un altro film quindi è come se avessi girato quattro film sulla questione degli investitori è stato bello trovare in quel momento storico lì perché c'era la questione del covid quindi tutta la questione drammatica che sappiamo tutti trovare qualcuno che ci ha creduto in questo caso Zulico un partigianato piuttosto che la regione Marche che hanno veramente reso possibile tutto questo e poi l'altra parte io sono un produttore in questo caso giovane ma pazzo nel senso che una metà della parte ce la metto sempre io nel senso che faccio il primo film come salto di pesci con Giorgio ho messo la casa lì dei miei nonni che non c'è più avevo fatto un mutuo con la casa dei miei nonni però è andato bene il film quindi la casa era rimasta lì c'è voluto il terremoto mannaggia lui quindi dico sono un produttore vecchio stampo cioè il rischio quindi rischiando al cinema ci tengo veramente tanto quindi è un'emozione doppia per me e l'emozione più grande però oltre a il rischio e tutto quanto che io sono convinto che già andare al cinema per me è un successo quindi come va va e andrà bene l'emozione grande è che il film è dedicato ad Alessandro Valori che è il regista scomparso due anni e mezzo fa che qualcuno di voi conoscerà forse con i quali ho prodotto il primo film come salto di pesci il filo libero dove c'era in questo caso anche Giorgio quindi Samuele e quindi ci tengo veramente tanto però è stato molto più difficile molto più difficile posso dire una cosa perché prima c'è stata una domanda anche la giornalista per noi attori sia mi ricordo è stato lavorare sia con un'opera prima sia con te che siamo un pazzo con Ferro e volevo invece dire una cosa molto bella nel senso che abbiamo già lo dato Federica giustamente io quando ho visto dei frame proprio su set mi sono affidata completamente alla sua attenzione alla sua cura per tutti noi già a partire anche da Simone che ci è andata a prendere veramente come una grossa produzione a casa insomma lo dico perché ci sono sforzate economicamente di emulare quello che fanno anche le grosse produzioni e ringrazio e con Federica è stato che le ho proprio detto io ho fatto diverse opere prime tra cui quella di Alice Rockwacker Corpo Celeste e l'ho proprio paragonata a lei gli ho detto guarda come giri così sei talmente lei sembra così timidina come Alice e quindi le auguro una carriera di questo tipo e ben più però dicendo anche al produttore giovane che anche quel film uscì in 30 sale al massimo quindi la mia gioia di essere in un'opera prima quindi con quello stupore con quell'emozione di lavorare sia con noi su un testo ma anche la determinazione che avete avuto in interrambi insieme perché lei la vedete così timidina sul set dice le cose ha esattamente chiaro quello che vuole ci fa parlare giustamente ci ha chiesto eccetera per cui io quando ho visto dei frame anche prima di girare perché gli altri avevano già girato e ho detto beh io sto vedendo una possibile ecco l'ho detto una possibile grande regista per cui è stato molto bello lavorare rispondendo a lei con un'opera prima a cui io sono un po' abituata il cinema d'autore alla fine ha quell'humus ha quel tipo di linguaggio che abbiamo utilizzato anche quello importante monzi insomma diritti hanno quel tipo di spessore a mio avviso almeno io che l'ho vissuta sia con loro con gli altri che hanno fatto un grande cinema e con lei che è ancora in erba ma che comunque ha quelle caratteristiche e Simone mi ha sempre adesso lui fa tanto il giocherellone lo è così sul set è vero che è stressato però come giustamente è chi mette a rischio non solo i soldi ma anche la propria faccia quindi è un'avventura che abbiamo deciso tutti di correre insieme veramente correre in questi campi in questa situazione bellissima io lo ricordo anche io come Lina con un'esperienza di vita bellissima ma come a me piace vivere poi i set anche quelli più grossi mi piace vivere come sto parlando con voi quindi veramente auguro a questo film e a voi perché ve lo meritate poi a tutti noi un grosso in bocca al lupo perché abbiamo fatto il top umanamente alto se non ci sono altre domande noi libereremo il cast diciamo che 10 di tutti proprio 10 lo tratteniamo per qualche collega che potesse ancora raccogliere qualche intervento e per fare qualche scatto fine la tappa grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti